Io mi riconosco nella libera scelta dei popoli e quindi se in Italia i Veneti vorranno fare un referendum per l'indipendenza avranno il mio sostegno, se votano in Ucraina hanno il mio sostegno, ovunque un popolo scelga la sua patria e la sua identità liberamente ha il mio sostegno, a differenza di quanto accade in Unione Europea dove se voti come vogliono loro sei democratico, se non voti come vogliono loro sei populista, xenofobo. Pensate che ieri a titolo assolutamente personale il responsabile della comunità ebraica di Roma ha detto che se oggi io mi fossi seduto accanto a Marine Le Pen la Lega si sarebbe messa fuori dalla democrazia, io sono seduto bello comodamente, serenamente dove sono seduto, abbiamo ottimi rapporti con le comunità ebraiche in tutta Italia, penso che la lotta contro l'estremismo islamico sia nell'interesse nostro e loro, però quel signore come qualche giornalista qua dentro più che fare il suo lavoro fa politica e ci siamo abituati e non è un problema.